Completiamo sempre l'antologia perché nell'antologia, parlando di pittura, c'è un terzo posto che abbiamo Ah sì, vieni Salvatore, così completiamo te con il titoli, prego Voglio ringraziare Lucia e Lelo perché mi hanno spinto a partecipare un po' di Tupan Vi ringrazio dal profondo del cuore, grazie Quando il cielo sta sempre abbottato, quando ti senti a l'indo sconsolato Quando i tempi sono sempre pesanti, quando ti senti scordato pure dai santi Quando cerchi una luce dentro oscuro, quando sbatti al capo dentro un muro Quando l'ucca e nessuno ti senti, o ti senti veramente picca e nina Mi fai trovare un biglietto scritto che mi arriva pure il cuore e il bietto Nasaetta assoglie lo sangrile e vene, s'assoglie tutto e scomparne i pene Tu lo sai, che pure io ti voglio per sempre Abbrazzami forte, che brazzi e camenti Te metti in capo che si chiatturella, ma dì lo cuore mio si sembra più bello Supportami quando non ti faccio dormire Stringimi forte, abbrazzami, fammi morire Solo noi due sappiamo fare l'amore per fare la pace e mettere a posto il cuore Io prego a Madonna che ci ha da sempre pegliano Perché proprio lui non ci poteva rassare Per sempre o per cent'anni non si può sapere Ma a buon momento, cuore a cuore, ci ha mai nemico Bravo, oltre al titolo anche il contenuto meritava E quindi avevamo messo proprio a sigillo di questa cassetta di sicurezza Di cassetta del pronto soccorso come dice Bello Ok, grazie, grazie a te E adesso è il momento del terzo classificato Eravamo rimasti con il terzo classificato Che è Elena Ostrica da Salerno C'è la signora Ostrica? Eccola qui Eccola qui